ecco siamo qui con il maestro tony bike allora abbiamo recuperato il morini che era andato si era fottuto il motore e abbiamo messo il motore del canguro canguro che possiamo vedere in questo momento e adesso vediamo se parte perché è partito noi sappiamo che è partito allora qui innanzitutto dobbiamo dire una cosa importante che questa cosa ad un certo punto si sono scoppiate le pistone no? allora ci siamo messi il motore del canguro, ora la modifica può far zombare e qui del canguro funziona ora andiamo a mettere il motore, mandagliare le colonne verdure allora è stata difficile questa modifica eh signor tony? ma questa modifica è stata difficile perché non l'ho fatta io quindi è stato facile un problema è che per fare bene tutto fatti ci vuole una poca tony baccante da mettere dentro e così salubrifica tutto il tuo meccanismo e funziona meglio eh? va bene quindi funziona allora a tuo posto funziona tutto perfettamente perfetto quindi il tuo culo a tutti quanti saluti saluti saluti